La stella cometa che brilla lassù, la 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 lero, la lero, la la, ragazzi oggi andiamo a fare una meravigliosa stella cometa. Prendete, ho un cotone o una lana piuttosto rigida, perché questa oltre che a indurirla con la lacca o con il vinavil, una signora mi ha detto che c'è un vinavil in odore, allora lo cercherò, ma io qui da brico mi hanno detto che non ce l'hanno, e allora non lo so, vedrò, se lo trovo lo prendo, che poi vabbè si deve sempre, c'è il tempo, invece io una botta di lacca extra forte, anzi anche due o tre, e la cosa si irrigidisce. Allora, vi ricordo di andarvi a guardare l'ultimo tutorial che abbiamo fatto, e cioè questi, gli alberelli, gli alberelli fatti a Ghirlanda, guardate che meraviglia sti alberelli, un alberello ci mettete tre minuti, quattro minuti, cinque minuti, eh, guardate che meraviglia sta Ghirlanda, in pochissimo, in pochissimo tempo, e con, questa è lana, qui sto usando il cotone, perché la stella verrà piuttosto grande, importante, e allora la lana dopo mi veniva troppo massiccia. E allora, andiamo, 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 così io me la metto sul mio puntale dell'albero, adesso sto facendo, finendo a fare questi piccoli tutorial, e vi ricordo per addobbare il mio albero, che è gigantesco, infatti mio marito non ci se la vede, andà in soffitta e caricasselo. Ok, pronte? Partenza, cinque catenelle, dai, cinque catenelle, ah, questo è un uncinetto quattro, ma, non lo so, sì, va bene, dai, uno, due, tre, quattro, cinque catenelle, se vedo, anzi facciamone sei, se vedo che viene troppo lenta, prendo un tre e mezzo, adesso provo con questo, una, due e tre, togliamo questi figli in eccedenza, vi ricordo di iscrivervi numeroso al mio canale, condividere, mettere mi piace, pippo va, qui dentro al nostro cerchietto noi ci andiamo a fare 24 maglie alte, due e tre e quattro e cinque e sei, tolgo stincianti fino a 24. Eccolo qui l'anellino, chiudiamolo. Questo è un cortore numero, sì, cinque, questo qui, è un cinque, ok? Con il lurex. Adesso andiamo a fare dei punti alti tripli, una, due, tre, quattro e su ogni punto alto sottostante un triplo, ripresi tutti e tre insieme, una, due e tre, di nuovo su quello vicino, e uno, due e tre e chiudiamo tutto insieme. Perciò verranno su 24 verranno otto punte, ok? Otto punte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, triplo, lì vicino, e i nostri tre tripli richiusi, chiusi insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ve l'ho detto che vi dovete iscrivervi al mio canale? Allora iscrivetevi al mio canale, fate suonare la campanella, mettete mi piace, condividete e fatemi la pubblicità con i vostri amici, le vostre amiche. Ecco qui, sono tre punte, proseguo fino a qui a otto. Eccole qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 maglie alte qui sotto, corrispondono a otto punte. Allora, otto catenelle, chiudiamo qui sopra. Andiamo qui con un punto basso, 1, 2, 3, punto alto, e sono due, e sono tre, e sono quattro. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo giù con quattro punti alti. e 1, e 2, tiriamo le bocchie qua, se no queste si inciampano, e 2, e 3, e 4. Eccole qui. 2 catenelle, 1, e 1, 2, e andiamo qui con i quattro punti alti. 1, 2, 3, è semplicissima, è 4. 1, 2, 3, andiamo con i nostri altri quattro punti alti. ma molto, molto, molto d'effetto. Con mezz'ora ne fate una. 2, 3, mettete il rallentatore. Del resto, i punti alti sono punti alti, i punti bassi, i tripli, sono i punti tripli. Eccolo qua. Proseguo da sola. Eccola qui. Dopodiché, noi chiudiamo. Ci trasciniamo con dei punti in mezzo alle nostre 3 catenelle. 3 catenelle, un punto alto, e sono 2, e sono 3. Adesso ne facciamo 3, ok? Sempre le nostre 3 catenelle, e 3 punti alti. Ecco qui, va bene? Dopodiché, noi dobbiamo andarci a bloccare qui. E facciamo così. 1 e 2, e un punto basso. Vediamo, è abbastanza 2 catenelle. Perché me la sto mezzo inventando, eh? Ne facciamo 3. 3 catenelle, un punto basso. 1, 2, 3, e voilà, qui sopra, con 3, 1, 2, e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, e andiamo con i 3 punti alti. Eccolo qui. Di nuovo. Eccola qui. 3, e finiamo. Scorriamo. Tieni ad arrivare sulla punta. 1, 2, aiuto. E 3, e 2, e 3. 3 catenelle, e 3 punti alti. 1, 2, e 3. Se qui ne abbiamo fatte 3, vedete, dobbiamo sempre arrivare al centro di questo punto basso. Adesso non ci basta. Proviamo 5. 1, 2, 3, 4, 5, perché non devono assolutamente tirare. Ci proviamo. 3, 5 vanno bene. E un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, e andiamo centralmente con le nostre 3 maglie alte. 1, 2, 3, o questo lo potete mettere pure come fuori porta. Lo potete mettere dappertutto, un regalo. Stupendo. Chi riceve mezz'ora fate una stella e fate dei bellissimi regali. 3, 4, 5, andiamo in mezzo qui sul punto basso e di nuovo. Ok, vedete già come svetta? Ok, la stella è pronta. Se voi la volete fare più grande, fate un altro giro, perché adesso dobbiamo fare la coda, perciò verrà piuttosto importante. Fate un altro giro, sempre le 3 maglie alte, qui invece di 5 ce ne mettete 6 e finito. Io per me va bene così, adesso vi faccio vedere quant'è la grandezza di questa stella. Prendo il centimetro. Eccola qui, 24 centimetri. abbastanza grande. Vamos con la coda. Ok, mi sono aggrappata tra una, vedete? Ok, adesso qui noi andiamo a fare una, scusate, 2 e 3, taglio questo pezzo. 3, perciò 3. catenelle sono un punto alto e 2 e 3. 3 catenelle, 2, 3. e andiamo con i nostri punti alti. e 1, e 2, e 3. Eccolo qui. E poi qui ci creiamo un altro, adesso vi faccio vedere, 1, 1, 2, e 3. Vediamo. 3 per ora basta. Andiamo qui e ci mettiamo altre 3, 3 punti alti. Noi stiamo ben da, eh? 1. bastano 3, 2, e 3. Per fare questa magic coda. 3, vabbè, facciamo facciamone uno in più, 4, così viene più pomposa sta coda. Di nuovo, 1, 2, 3, e andiamoci qui con i nostri 3 più 3. 3, 1, 2, 3. Perché se noi in alcuni modelli ho visto che la facevano a parte e poi la sormontavano sotto, ma viene tutto un agglomerato brutta, non mi piace. Allora, noi invece lo andiamo a fare in questo direttamente sulla stella la coda. Giriamo la nostra coda e facciamo 1, 2, 3, 4, e 5. Questa è una rifiniturina che si deve notare. 3 più 3. 1, 2, e 3. 3 catenelle, e di nuovo 1, 2, 3. Andiamo a fare qui in mezzo le nostre quattro maglie alte tutte nello stesso punto. 1, 2, 3, e 4. 1, 2, 3. Andiamo qui, facciamo le nostre 3. 3 più 3 catenelle e 3 punti alti. Vediamo subito come sta venendo questa coda. Sì? Mi piace? Mi piace. Che, di nuovo giriamo sempre le nostre 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 più 3 sempre la solita solfa. Adesso facciamo ok? Vamos! Giriamo 5 catenelle sempre quello. 3, 4, 5. E vado a farle per 5 volte sta solfa. 3, 3 catenelle, di nuovo 3 catenelle e andiamo su questo. 1, 2, 3, e 4. Perciò sono 1, 2, 3, 4, ne farò un altro e poi facciamo la coda. Allora ragazzi, ho pensato che la coda deve essere piuttosto lunga. e allora noi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, ne facciamo un'altra così siamo sicuri che viene bella lunga la coda. Ok? 5 sempre la solita solfa, 5 catenelle, 3, 4, 5, 3 alti e via discorrendo. Ok ragazzi, sono 6, adesso continuiamo la nostra gli facciamo come la ruota di un pavone perciò sempre 5, 3, dai 3, 3 catenelle 3 catenelle 3 catenelle andiamo qui centralmente alle nostre 4 facciamo un punto alto 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e un punto alto e un punto alto di nuovo 3 catenelle andiamo qui e finiamo la nostra 1, 2, 3 catenelle 3 catenelle vedessi 1, 2, 3 ma adesso su quelle che abbiamo fatto centralmente quelle 5 andiamo a fare un insieme di punti alti per fare questa coda di pavone 3 dobbiamo girare vedete guardate che meraviglia vado che giriamo 2, 3, 4, 5 le nostre 3 io intanto mi sono messa il lurex che si era finito poi andiamo 1, 2, 3 e qui con i nostri punti alti così ne dobbiamo fare 14 è una 2, 3, 4, 5, 6, fino a 14 ecco lo vedete 14 sempre le nostre 3 catenelle per ora e il nostro gruppetto di 3 più 3 e 3 5 eccolo qui ok vedete già come si sta un po' allargando e di nuovo 5 catenelle 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo con il nostro 3 più 3 più 3 più 3 2 e 3 3 3 3 catenelle ora andiamo su ogni punto alto rifacciamo il nostro punto alto distanziato da una catenella in modo che la nostra coda si viene allargando naturalmente e sono 2 una catenella e sono 3 e una catenella e sono 4 catenella catenella ma vedete già come si allarga a coda di pavone eccolo lo vedete 3 catenelle e rifacciamo il nostro gruppo ui ui dove scappi tu bella mia 1 2 3 rifacciamo il nostro gruppo ok vedete come si sta allargando invece sul disegno che avevo visto io era messo proprio a fine a metà bruttissimo 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 a volte uno si inventa un po' le cose e vengono meglio dei disegni che ci abbiamo giriamo è 1 2 3 4 5 sempre solita gruppetto di 3 3 è anche facile anzi semplicissimo perché è piuttosto ripetitivo a volte cambiare troppo spesso le cose ci fanno come quelle quelle pigne che ho fatto mamma mia mi aveva fatto dannare guardate 3 e adesso andiamo qui con il punto alto e un altro punto alto ok andiamo qui scusate punto alto e un punto alto praticamente noi andiamo a raddoppiare mettiamo sotto alla catenella che abbiamo fatto due punti alti in modo che la nostra coda senza catenella tra uno e l'altro non serve due più due più due ecco in modo che così si allarga naturalmente finisco tutto il giro arrivo qua poi giriamo eccolo guardate che meraviglia sempre le nostre 3 catenelle e facciamo i nostri 3 punti alti che poi facciamo l'ultimo giro e abbiamo finito a fare la nostra meravigliosa stella semplice semplice senza tanti facci prendere cose mentali da sti cavoli di 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 da un po' di tempo li sto semplificando tutti tutti perché io penso che mettono i disegni però nessuno li fa queste cose nessuno le ha fatte ecco qui guardate vedete come prende posizione adesso andiamo con l'ultimo giro ok ultimo giro sempre le nostre 5 1 2 3 4 5 andiamo con le nostre 3 3 3 3 ok adesso 3 catenelle 3 andiamo con i tripli l'ultimo giro lo facciamo come con i tripi qui non lo lavoriamo lo lavoriamo qui perciò ne rimarrà uno di su e uno di giù ok facciamo i tripli e uno e due e tre e quattro scusate e li chiudiamo insieme ok adesso qui noi andiamo a fare 8 catenelle in modo che queste rimangono belle staccate 3 4 5 6 7 e 8 e di nuovo e di nuovo i nostri 4 tripli e 1 e 2 e 3 non chiudiamo e 1 e sono 3 e sono 3 e sono 4 e sono 4 e ancora più importante e ancora più importante 8 catenelle io non ho voluto vedere per vedere come butta come butta diceva mia madre il mio lavoro vanificato il mio lavoro vanificato ci avete da fare 3 4 5 6 7 e 8 ok finisco dai guardate che meraviglia che meraviglia sta coda così la chiudiamo e adesso vi faccio vedere la mettiamo sull'asse da stiro o su qualcosa che possiamo dove possiamo irrigidirla con la lacca eccetera con un pezzo di carta e poi ci passiamo la lacca 2-3 volte ok vamos stella d'argento che brilli lassù ok ragazzi ho preso o lo scott o dei fogli di carta e vado a mettere la mia stella aspettate che non ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo eccole qui vedete l'ho messa sopra quegli assi da stiro vabbè io ho questo la stessa cosa potete fare voi ci metto un po' di carta perché così non mi si appiccica il ferro in questo modo e gli do il garbo della stella allora con le spille perché perché così io adesso vado fuori con la lacca vedete gli date proprio la forma della stella in modo che con la lacca poi prende ben posizione la stessa cosa dovete fare sulle punte qui dalla stella vedete guardate vedete 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 la coda no va un po' più giù eh allora oggi siamo al meglio ma guardate che roba che ho fatto dai che cosa di meraviglioso che tutorial meraviglioso che vi ho fatto. Adesso io vado con l'asse da stiro sul terrazzo, sul mio terrazzo, il terrazzo lo chiamo terrazzo, sarà a 20 metri quadrati, è proprio piccolissimo. Il mio balconcino tipo quello di Giulietta e Romeo c'è un tavolino e ci vado a piazzare questo e raga lo sistemo meglio, vamos! E non ci arrivo, questo è troppo lontano. Eccola qui, guardate che meraviglia sta cometa, stella cometa. Adesso noi la dobbiamo decorare. Allora questa è ancora umidiccia, ho dato due o tre botte di questa lacca extra forte sul davanti, poi l'ho fatta asciugare con il fono e l'ho data dietro. Adesso, dato che non ho tempo più di tanto perché voglio far vedere a voi, vado a mettere le decorazioni e qui io ci metto delle perle bianche, punto. Perciò la decoro tutta con queste perle sul centro della cosa. La colla mettiamocela perché così la perla non si stacca. La dobbiamo proprio riempire. Vediamo, vediamo dove la mettiamo. Eh, 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 eh. Così, sulla... Guardate, meravigliosa, non lo vedete da voi poi, che meraviglia che è venuta fuori. Vale la pena, ragazze, perdere un po' più di tempo per decorarla, va bene? Vedete, adesso sto seguendo la coda. Magari qui ce ne metto di più, proprio la riempio. faccio il centrale più importante. Beh, vado. Odio le maniche larghe che vanno a finire sempre sui lavori. Infatti questa maia non me la metto mai, appunto per queste maniche. E chi come noi stanno sempre a lavorare o a impastare o a... queste ce ne inciampano. È vero, raga? Ho fatto una magnata di lacca terribile. Io poi non me la faccio mettere mai la lacca, la odio. Ho cercato di stare controvento, non è? Ok, guardate che meraviglia. Vale la pena, vale la pena perdere un po' di tempo per decorarla. Vedete con le spille come è rimasta bella rigida? Sulla coda del paone... Che brilli qua giù! Questa la metto sul puntale della mia... del mio albero. Chissà quando lo faccio l'albero io. Ho timore a dire a mio marito di andare a prendere l'albero. Che quella è una faticaccia, ha preso un quintale. Ah, mannaggia, mannaggia. Prima c'era mio figlio, lo trascinava lui. I ragazzi più giovani, c'hanno più forza, no? E anche più voglia. Anche perché l'aveva scelto lui, quell'albero enorme. Quando era piccolino. No, voglio questo grande! E poi dopo uno si invecchia e va a finire a casotti. Adesso con la scusa che così il nipotino guarda... Guardate che meraviglia! Dai, andiamo a fa' pure. Perché è troppo bella sta stella. Mi devo mettere la crema sulle mani. Per non farmi appiccicare la colla. Ragazzi. Finita. Soddisfattissima della mia stella. Guardate che meraviglia. Eh? Stupenda. Diciamo che mezz'ora ho lavorato con voi. Vabbè, poi l'abbiamo decorata. Ci ho messo la colla, ci ho messo la cosa. Con un'ora voi fate una stella di questa. Cioè, vale la pena spendere un'ora per un lavoro del genere. Anche perché io l'ho molto semplificato. Ed è stupenda. Questa ho messo sul puntale. Adesso vado a ridargli una botta. Finita da dare una botta alla mia con la lacca. È logico che una volta che voi avete attaccato tutte le perle con la colla... Poi, per asciugare la lacca. Non è che andate a passarci il fono, eh? Perché poi le perle si staccano. La lasciate in balcone o all'aria e finisce ad asciugarsi. Guardate che meraviglia. E allora, guardate i miei tutorial. Mettete mi piace, condividete e fatevi la pubblicità. Mi raccomando, ragazze, guardateli i tutorial. Ciao.